Questa è una storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Viagluc, in una casa fuori città, che è tranquilla, che lavorava, là dove c'era, ma ora c'è una città, e che la casa è del verde ormai, dove sarai? Questa è una storia di uno di noi, anche lui nato per caso in Viagluc, in una casa fuori città, che lavorava, là dove c'era, ma ora c'è una città, Giorgio pe translate, che lavorava, lah dove c'era, ma ora c'era, ma ora c'era. Grazie a tutti! Grazie per la visione Grazie per la visione